Massimo Icerri, oggi direttore tecnico dell'Alessandria, però lo lega ai colori rosso-blu, ricordo perché è un passato anche abbastanza recente tra le fila del Cosenza Calcio. Certo, infatti vi seguo sempre con affetto e con attenzione perché ricordo che nell'anno successivo alla mia presenza il Cosenza andò alle finali play-off, io ho visto anche la finale play-off vicino al presidente Guarascio, quindi ho dei bellissimi ricordi e vi seguo sempre con simpatia. Una curiosità, visto che poi nel suo trascorso c'è anche un'esperienza tra le fila del Catanzaro, come è stato accolto visto che comunque aveva nel curriculum un'esperienza con il Cosenza? Questa è stata una discriminante forse, ha dovuto rompere qualche... No, ma guarda, sinceramente i tifosi del Catanzaro non me l'hanno fatta pesare tantissimo, mi sono trovato bene anche a Catanzaro, è stata un'annata che è finita benissimo perché siamo arrivati secondi, e non era nei programmi della società arrivare secondi quell'anno ma era un anno di costruzione e vedo che quest'anno ancora stanno arrivando alla fase finale di questa costruzione, quindi non voglio fare proclami per scaramanzia, però anche lì io mi sono trovato bene la Calabria e devo dire che mi ha trattato bene sia a Cosenza che a Catanzaro, quindi faccio anche questa intervista per questo e ringrazio i tifosi sia dell'una che dell'altra città. Torniamo all'attualità, che calciomercato è oggi? Questo è il giorno che anticipa la chiusura, però sappiamo che ci sono tante difficoltà e quindi si deve operare tra tante difficoltà. Sì, è vero, quando si arriva al finale del mercato, secondo me le preoperazioni più importanti bisogna già averle portate a termine. Negli ultimi due giorni magari si fa qualcosa per completare i reparti, a volte qualche occasione è possibile approfittarne, però sono cose che magari ti aiutano a completare la rosa. L'operazione più importante la devi già aver finita. Noi abbiamo fatto tre ingressi over già programmati, sto cercando di ultimare l'arrivo di qualche giovane anche magari per la prossima stagione. Però è un mercato che deve avere, come dicevano i miei colleghi, molte idee perché i soldi sempre sono pochi. Sono pochi, giustamente i soldi per pagare i cartellini dei giocatori sono sempre meno. Allora bisogna farsi venire delle idee, magari prendere giocatori che devono ritrovare le motivazioni. Voi avete una piazza importante con una tifoseria bellissima dove un giocatore se vuole rilanciarsi può sicuramente venire a Cosenza. Quindi bisogna far fronte e cercare di far leva sulle motivazioni dei giocatori. C'è qualcosa che la collega al Cosenza di oggi, quindi magari un rapporto di conoscenza con il direttore sportivo attuale di Rosso Blu Roberto Gemmi? Ma spesso mi sento con lui e col suo vice Perna perché voi avete anche in rosa dei ragazzi interessanti che magari potevano far comodo all'Alessandria. Quindi ho un buonissimo rapporto anche con loro. Poi Viali è un tecnico che ha allenato anche il Piacenza e quindi ho simpatia per il suo lavoro. Ha fatto secondo me un buon inizio di lavoro, adesso ha qualche difficoltà. Però la vittoria di Parma, col Parma in casa, potrebbe rilanciare le sicurezze per trovare una salvezza magari un pochino in anticipo. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi.